Non vedevo case, non vedevo il paese Ricordo che ero andato più volte con mia madre, Tina Merlinde, l'Unità La diaspora ad esempio che subirono gli ertani andava in questa direzione Ai superstiti che non saranno tralasciati a ricostruire la loro vita Siamo stati abbandonati, non siamo stati aiutati, non siamo stati riconosciuti come una pensione Noi quando è che usciremo dalla nostra tragedia, dalla nostra galera? Quando? Cosa hanno fatto i numerolisi, i Vaiontini, per essere amati così tanto da Dio? Vaiont è un puzzle da 10.000 pezzi